Sin da piccolo quando studiavo e guardavo Michael Jordan lui diceva sempre che i limiti e le paure sono solo delle illusioni è molto più facile fare una scelta durante l'azione di gioco invece il tiro libero c'è molta più pressione sono cinque secondi della tua vita in cui tu sei solo sembra nel momento più lungo della storia perché mentre tu tiri stai trattendo respiro sono abituato a giocare a palcanestro che è uno sport di istinti è uno sport molto molto veloce fatto di attimi e le stesse sensazioni me le può dare una macchina quando vado veloce io sono Danilo Gallinari e questa è la mia storia